La riunione pubblica del Parlamento è terminato il debate arriva il progetto di l'hospital. A l'età di due ore, la nostra riunione è continuata con la riunione. Mi mi servizia di una che è gratamente assombrata, patuta e sincerità con la quali i nostri sinti del ministro Schwengel si contestano una cosa che è realizzato alla fine di 4 anni di salute al pubblico, ma anche a fine di 8 anni di governo di AVP che ci sono cose che ci sono fatte e ci sono cose che ci sono fatte e ci sono arrivati all'epoca, ci sono arrivati all'epoca e ci sono arrivati all'epoca, ci sono arrivati all'epoca qui sono arrivati all'epoca sul AbbVNI, il pubblico e il pubblico, il imparso il bancone, il contratista, il attempting a fare che non si mette come MEP, ma sicuramente questa è la meta di partito di una nuova coalizione di MEP per la red, che non si mette mai per fare il progetto, se non si mette. Per i nostri spettatori c'è un nuovo hospital, ma non si chiede che sia un hospital che guarda la migliore qualità possibile per il valore di placa che guarda invertì nel progetto di hospital. Noi come MEP sta sumamente critico del processo di beding e non si chiede che il bed è ora che fixe, non si chiede che ora qui noi, come formando parte di una maggiore nuova, non si chiede un'investigazione independente di fulle procedura, un'audit independente di fulle procedura di come e bed abbia e di come passare. Non si chiede che non si chiede un'errore, non si chiede un'errore. Non si chiede un'errore. e non si chiede un'errore. Non si chiede un'errore. Un'errore. Grazie a tutti.